ciao ragazzi allora questa sarà la nuova rubrica tra virgolette che sarà nel mio canale e appunto la rubrica dei dupe perché mi sono resa conto stamattina di avere dei dupe tra i miei prodotti labbra quindi questa sarà una puntata dedicata ai prodotti labbra per chi non lo sapesse i dupe sono come in questo caso rossetti di uguale colore se non identico proprio e spesso possono essere anche uguali nelle texture quindi andiamo a vedere nel vivo andiamo nel vivo ecco del video ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanella mettendo un like e commentate fatemi sapere anche la vostra come sempre allora la prima coppia che vi faccio vedere è il melted matte di du faced che io amo 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 queste queste tinte anzi rossetti liquidi questa è la colorazione band e snap e sapete tutte che si trovano da sephora e costano intorno a 21 22 euro quindi costicchiano e il il suo dupe quello che ho trovato almeno quello che ho trovato io è questo la super stay matte ink di maybelline nella colorazione 120 artist e queste le ho trovate un po dappertutto a volte anche in offerta costano i 5 6 euro io però questa mi sembra di averla pagata 8 9 euro penso quindi comunque costa molto meno rispetto alla too faced e questi sono gli swatch la prima è la too faced mentre la seconda a destra è quella di maybelline che rimangono comunque un po bagnaticce quindi non si asciuga mai l'effetto è così infatti il finish leggermente diverso però vi assicuro che se volete quella tinta di too faced non volete spendere tanto andate su questa qui questa colorazione di maybelline perché per me sono dei dupe proprio al 90 per cento un'altra coppia dupe sono questi due questo è un rossetto mac ai miei era il limite edition e lo faccio dire comunque questo è il viva glam 1 ed è un matt e poi c'è rossetto liquido di bottega verde nella colorazione 11 paprika che non il primo è il mac che sapete tutte costano 20 euro e l'altra che si deve ancora asciugare a destra è la quella di bottega verde che costano di meno intorno alle 12 euro però a volte con i saldi costano anche molto molto meno il finish è diverso una volta che quella di bottega verde si asciuga fa un effetto molto velluto effetto velluto molto molto bello mi piace tanto entrambi i colori ovviamente mi piacciono tanto sono dei rossi tendenti al caldo non so voi quanto riusciate a vedere comunque a parer mio sono dupe l'ottanta per cento sono abbastanza simili poi un'altra coppia di dupe sono questo di mac questa non è una limited quindi la potete trovare tranquillamente questo è media famosissimo ed è un saten poi c'è il rossetto liquido di l'oreal della linea le chocolat e la colorazione cacao crush sappiamo i mac costano 20 euro i l'oreal un po come i rimmel un po come le stie matte di maybelline costano molto di meno comunque intorno agli 8 euro o qualcosa più o meno e questi sono gli swatch il primo è il mac infatti è un saten e non hanno lo stesso finish anche se anche l'oreal non si asciugano come i maybelline non hanno lo stesso livello di maybelline però comunque rimangono un po effetto bagnato però hanno una durata pazzesca e l'oreal come del resto anche le maybelline forse questa di l'oreal ha una punta in più di marrone rispetto al diva no scusate al media di mac però sono veramente per me molto molto simili se non volete spendere anche qui 20 euro per un rossetto io vi consiglio questa di l'oreal per me questi sono comunque di up al 60 per cento altro giro altra corsa allora questi sono altre due coppie di di up abbiamo il sephora queste questi rossetti liquidi famosissimi che però non riesco a leggere se mette a fuoco magari posso leggere qualcosa e il numero 100 se non sbaglio mettiamo a fuoco non mette a fuoco però fidatevi è il numero 100 con il rossetto di essence di questa linea matt 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 vibrant shock numero 11 non so sinceramente se si trova ancora comunque io ve li faccio vedere ugualmente sappiamo che le tinte sephora costano 10 euro mentre rossetti essence sono veramente molto molto low cost intorno alle 3 euro 3 euro e 50 tipo questi sono gli swatch il primo è quello di sephora che si sta ancora asciugando e il secondo è quello essence che è più un semi matt che matt a parirmi un po più cremoso rispetto ai soliti insomma ai matt il finish ovviamente è diverso mentre la sephora che purtroppo sta ancora asciugando però vi assicuro che è molto più matt rispetto al rossetto essence entrambi comunque molto belli una bella punta violacea e forse quello di sephora è più color rebel un po più sì un po più chiaro forse rispetto a quello essence insomma veramente di pochissimo per me sono dupe almeno un 60 per cento un'altra coppia sono loro il rosetto liquido di ele girl nella colorazione rebel eccola qui e poi la ipnotize di astra la numero 10 saten e questi sono gli swatch il primo a sinistra se mette a fuoco è quella di ele girl io l'ho acquistata un bel po di tempo fa mi pare intorno ai 10 12 euro mentre la astra 5 euro costa molto molto belli come colore ovviamente la differenza è che quella astra non so se si possa percepire ha delle perle scienze violacee non è matt mentre quella e le girl se si asciuga è proprio matt è proprio un bel effetto vellutato quindi sono dupe sì a metà perché comunque hanno il finish diverso però se non volete spendere tanto di dogane via discorrente insomma vi consiglio senza dubbio l'astra con 5 euro ed è un colore veramente molto molto simile un'altra coppia sono loro la the balm io questa la mini size che ho preso in un set in cui uscivano tipo 6 mini size dei loro rossetti liquidi e questa è la colorazione loving non mette proprio a fuoco vabbè e sappiamo tutte che comunque costicchiano una ventina di euro tipo per quelle the balm e poi c'è la debora sempre di questa linea nella colorazione 02 queste qui le ho acquistate nella mia profumeria insomma vicino casa più o meno anche queste intorno alle 10 euro più o meno e questi sono gli swatch devono ancora asciugarsi la prima è quella the balm e la seconda è quella debora forse quella debora è leggermente più pescata però veramente è quasi impercettibile il diciamo il colore un po' leggermente diverso pensate che adesso quelle the balm sono da sapere che sono un po' è un brand un po' più introvabile ormai in italia forse forse trovate qualcosa da douglas quindi dateci uno sguardo un'occhiata a quella debora perché per me è molto molto simile è un dupe abbastanza simile direi comunque a un 60% oltretutto queste the balm oltre a non essere più tanto reperibili qui in italia hanno una profumazione di mentolo molto comunque abbastanza presente quindi se voi non amate profumazioni così forte comunque ve la sconsiglio le debora mi piacciono tantissimo perché oltre a costare poco hanno anche una ottima ottima durata fanno un bel effetto velluto veramente come dice il nome velvet appunto in italiano velluto mi piacciono veramente tanto sinceramente in quanto durata preferisco molto molto di più le debora un'altra coppia sono loro a dire la verità questa coppia l'ho scovata su internet e devo dire che è vero verissimo questo è MAC ed è un saten nella colorazione Verve mentre questo è il Wet n Wild della linea classica nella colorazione Mocalicious sappiamo i MAC 20 euro e il Wet n Wild molto 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 low cost 3 euro costano e questi c'è guardate guardate di swatch il primo è MAC e quello a destra alla mia destra è il Wet n Wild a parte il finish che forse solo quello è diverso perché il MAC comunque è un saten non è matte però sono ditemi voi sono veramente uguali è il dupe che ho scovato con veramente il con dupe al 100% direi quindi se non volete spendere tantissimo per il MAC andate sul Mocalicious di Wet n Wild un altro dupe l'ho trovato nei The Balm questa è la colorazione Charming con il Wet n Wild sempre della stessa linea i Megalust però questo non sta scritto vabbè nella colorazione Spiked with Room e questa è sempre la Mini Size però comunque costicchiano sono veramente high costi The Balm contro i Wet n Wild che costano solo 3 euro e questo questi sono gli swatch il primo è The Balm e il secondo è Wet n Wild devo dire che anche questi a parte il finish leggermente diverso perché comunque Wet n Wild è leggermente vedete comunque non totalmente matte non si asciuga non si asciuga totalmente mentre il The Balm essendo un rossetto liquido è molto più coprente però devo dire che anche qui siamo di fronte a due dupe proprio per me al 100% poi penultima coppia che ho trovato poi abbiamo quasi finito ebbene sì sono due di Wicon uno è il matitone il lip chubby non so se si trovano ancora questa colorazione che ho io è la numero 11 con il rossetto della linea matte sublime lipstick questo l'ho acquistato nell'ultimo natale è stato un regalo del mio compagno questa è la colorazione 604 ebbene sì sono entrambi Wicon Wicon a volte si ripete nelle colorazioni che dire comunque questi sono gli swatch il primo è il matitone e come potete vedere è un semi matto non è totalmente matto infatti preferisco più il matte sublime il matte sublime è la linea di rossetti più bella di Wicon a parer mio se mette a fuoco vabbè e quindi direi che sono comunque abbastanza dupe anche se il finish è diverso ma sono un dupe all'80% quindi uno vale l'altro sinceramente se non trovate questo prendete rossetto se preferite come me una cosa più più matte vi consiglio di grandissima lunga il matte sublime ah in più non vi ho detto che oltre ad avere il colore praticamente uguale hanno anche lo stesso prezzo quindi costano entrambi intorno alle 6,90€ se non sbaglio però entrambi con i saldi li potrete trovare anche a meno per finire questa è l'ultima coppia che ho scovato ed è sempre il matitone di Wicon Lip Chubby però questa era la primissima uscita la primissima versione rispetto a quello che avete visto in precedenza che era uscita dopo se non sbaglio poi non so se l'hanno riformulati comunque questo è un bel colore molto molto bello questo è lo 03 rosa antico sperando che metta a fuoco il cellulare ecco molto molto bello un nude freddo mi piace tantissimo come mi sta mentre abbiamo l'essence sempre della linea matt 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 lo 02 i costi costano esattamente il Wicon costa esattamente il doppio cioè 6,90€ contro i 3,50€ più o meno e questi sono gli swatch il primo è il matitone è un semi matt però come potete vedere rispetto al matitone di prima di Wicon questo qui risulta essere più matt rispetto all'altro matitone mi piace molto di più mentre invece il l'essence scusate questo quest'ultimo sembra essere più cremoso insomma ecco quindi questo è quanto però a parte il finish c'è sono veramente uguali direi veramente molto 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 simili per me sono dupe almeno un 90% e niente ragazzi il video questo video almeno è finito spero di esservi stata di aiuto nella vostra scelta del vostro rossetto e niente ci vediamo al prossimo video spero di trovare anche dupe di ombretti e così vi faccio anche altri video dupe spero che questa rubrica vi piaccia e niente al prossimo video ciao ragazzi